Si riaccende la discussione sul possibile accorpamento delle scuole dell'infanzia Anna Mozzillo e Santa Maria delle Grazie di Agropoli e dislocarle nel plesso Gino Landolfi. La direzione didattica Gino Landolfi aveva chiesto per questo motivo l'annullamento della delibera comunale ma l'ente agropolese non ci sta e si costituisce dinanzi al TAR Campania. Devo dire che mi ha sorpreso molto il ricorso fatto dalla vocatura perché ritengo che per quel che posso io capire è assolutamente infondata in quanto la delibera in questione è una delibera di indirizzo che non determinava nessun particolare risultato, nessun effetto sostanzialmente con la delibera noi chiedevamo agli uffici un parere su un'ipotesi di organizzazione. Io credo che negli enti pubblici si fa così, prima si valuta l'opportunità di fare qualche cosa poi dopo eventualmente si prendono dei provvedimenti. Quindi la delibera, soltanto una delibera di indirizzo, ripeto, non crea nessun effetto diretto non è una scelta definitiva ma è soltanto una necessità da parte degli amministratori di comprendere le diverse possibilità quindi veramente non abbiamo capito il senso del ricorso. Ma in ogni caso era giusto costituire per difendere le nostre ragioni e quindi lo abbiamo fatto. D'altronde da parte degli uffici tecnici era già stata esclusa poi questa possibilità di accorpamento? Gli uffici tecnici avevano dato una risposta dicendo che sulle diverse ipotesi che avevamo noi chiesto di valutare solo una era tecnicamente possibile tra l'altro e quindi ci ha dato delle risposte chiare rispetto a delle idee che avevamo. Poi se dovesse decidersi, determinarsi l'amministrazione su delle scelte definitive a quel punto faremo tutti i passaggi del caso e quindi sentiremo tutti gli enti che devono essere sentiti per ottenere il parere definitivo. Quindi non avremmo avviato nessuna procedura particolare se non seguendo quelle che sono le leggi che come sempre facciamo quindi oggi veramente a poco senso parlare di questo. Lo faremo se dovessimo verificare perché poi come sapete la delibera è collegata comunque in ogni caso a un possibile ragionamento che dobbiamo fare in merito alla istituzione di un commissario di polizia di Agropoli, finché non avremo la certezza da parte del Ministero della volontà definitiva di poterlo mettere qui in città è evidente che non possiamo fare nessuna scelta stiamo attendendo le verifiche tecniche da parte del Ministero stesso quando avremo questa comunicazione poi raggiunta a quel punto farà delle scelte e si determinerà sulla base di quello che è il nostro programma elettorale nel nostro programma si parlava di sicurezza in città quale migliore occasione di ospitare nella nostra città un commissario di polizia credo che sia una esigenza, una richiesta che non viene soltanto da noi ma viene da tutta la città per questo motivo noi proseguiremo decisi in questa direzione.